Il calendario baby di Chioggia TV, un appuntamento in collaborazione con Sergian Major, la moda per i più piccoli a Sottomarina e con Palestra Sport Life, Isola Saloni, Chioggia. Nel calendario baby di Chioggia TV questo mese protagoniste tutte bimbe, Sara, Alessia, Anna e ancora Sara. Sergian Major presenta una collezione invernale sui toni del rosso, panna, bluette e grigio. Ecco il look di questo mese delle nostre piccole miss. Per Anna una gonnellina in tela jeans a ruota con bordino panna e azzurro, maglia panna con fiocchetti e cardigan pesante in lana grigia. Per Alessia una camicia in tartan rossa, panna e blu, con sombra e un avvolgente cardigan, short a palloncino grigi spinati e calzamaglie di lana rossa. Sara indossa un abitino in lana a mezze maniche, con motivi norvegesi, rossi e panna, sotto maglioncino rosso a collo alto e leggings grigi. L'altra Sara indossa un caldo cardigan con cintura, da utilizzare prima del grande freddo anche come capo spalla, gordelina blu, giro collo panna e calze grigie. Da Seja Major, occhi alle promozioni di ottobre. Promozione Mix Measure. Cerca i capi con l'etichetta Mix Measure. Magliette, lupetti, pantaloni 5 tasche. Acquista almeno due capi e avrai lo sconto immediato di 5 euro. Se ne comprate quattro, risparmiate 10 euro. Altra super promozione. Spendi almeno 60 euro e avrai subito uno sconto di 10 euro alla cassa. Se acquisti il piumino in piuma naturale, senza maniche e con cappuccio, ideale per le stagioni di mezzo, pagate euro 29,90 e in regalo la pochette porta coniglio a forma di animaletto. Seja Major fa anche un regalo a tutti i bimbi che festeggiano il loro compleanno. Lasciate in negozio il vostro indirizzo mail e la data. Seja Major è a Sottomarina in via San Marco. Partner questo mese del calendario baby di Chioggia TV, la palestra Sport Life Group. Sport Life Group. Sport Life Group. Da oltre 20 anni opera ed organizza corsi fitness. Attività aerobiche come body step, body attack, body combat, shi band, zumba, reggaeton, hip hop latin, spinning, walking. E poi attività posturali e tonificazione come pilates, chicks work, TRX allenamento in sospensione. E ancora arti marziali, karate tradizionale giapponese, goju kai. Sport Life Group è palestra sempre al passo con i tempi. Propone ogni anno nuove emozionanti discipline per allenarsi al meglio e non annoiarsi mai. La palestra è diretta da Samuel Bozzato in collaborazione con un ottimo staff di istruttori qualificati. Ci sono tanti corsi dedicati ai più piccoli. Fate scoprire ai vostri bimbi il karate tradizionale. Nato come arte marziale per il combattimento e l'autodifesa, con il tempo il karate si è trasformato in filosofia di vita. Un impegno costante di ricerca del proprio equilibrio. Sempre per i più piccoli ci sono anche i corsi di ballo caraibico. La Sport Life Group è palestra figliata Le Mills, le migliori formule di fitness di gruppo per ottenere risultati divertendosi. Body Combat Magica combinazione tra fitness, arti marziali e musica. Il Body Step è la Body Attack. Addio vecchia aerobica. Tanto divertimento e duro allenamento. Il Body Pump è il Cheeks Work, tonificante esercizio a ritmo di musica con l'utilizzo di bilanceri, elastici e step. Per gli appassionati della danza da discoteca, tenetevi, arriva lo Shibam, coreografie e danze a ritmo di discoteca. Scopri la formula fitness che fa per te con le lezioni di prova gratuite. Da Sport Life Group anche i corsi di ginnastica antalgica correttiva. Il programma a basso impatto si sviluppa con esercizi lenti e mirati per ridare scioltezza, mobilità e sollievo a problemi artrosici, processi infiammatori, post-traumatici. I gruppi di lavoro sono composti da un gruppo ristretto di persone, massimo 12. Per informazioni Sport Life Group, isola Saloni Chioggia. Il servizio fotografico dei nostri baby modelli è stato fatto nell'isola di Caroman. Per il trasporto da Chioggia utilizzato il Bragozzo Ulisse, che offre un servizio a chiamata per il trasporto bici per Caroman e Pellestrina e viceversa. Basta lunghi attese, vi accompagnano quando volete per farvi trascorrere una giornata in completo relax. Sara, Alessia, Anna e ancora Sara si sono divertite moltissimo a posare per gli scatti di Laura Sambo. Il calendario baby di Chioggia TV. Il calendario baby di Chioggia TV. Un appuntamento in collaborazione con Sergian Major, la moda per i più piccoli a Sottomarina e con palestra Sport Life Group, isola Saloni Chioggia. Sambo supereroe. Allora, voi avete fatto il calendario. No, io mi ero male, non so, voi due avete fatto il calendario. Elisa deve coprire i fiammi, voi dovrete coprire i fiammi, cioè dovete mettere i fiammi. Eh, che bene, è bene. Le Charlie's Angels. Io vado a stare a testa, però. Vai, questa è il minaposo da calendario? Eh, ma non mi guardo qui. Il calendario? Questa per terra, è trendy. Copri il fiammi, mi ha detto. Copri il fiammi, ragazze. E poi metteremo a confronto la foto di chi ci ha detto. Ma durante e dopo. Ma non sapete che siete su Chioggia TV, vero? No. Non è importante. A posto. Non ci vergogniamo di niente. E poi metteremo a confronto la foto di chi ci ha detto.